La squadra mobile è tornata al comune di Agropoli. Questa mattina, personale della questura di Salerno in Borghese si è recato in municipio per degli accertamenti. Il sindaco Adamo Coppola, per stemperare l'allarmismo generato dalla notizia della presenza della Polizia di Stato nel cuore della vita amministrativa cittadina, ha rilasciato uno stringato comunicato in cui ha precisato che si tratta di una normale attività di accertamento in continuità e controlli che già si sono verificati alcuni mesi fa. Tra maggio e giugno scorso, infatti, più volte gli agenti della squadra mobile hanno varcato le soglie del comune per acquisire atti e documenti. La prima volta è stata il 6 maggio, in cui frangenti si era parlato di un'inchiesta ruotante attorno al sistema degli affidamenti, degli appalti e dei rapporti tra amministratori vecchi e nuovi e le partecipate, in particolare l'Agropoli Servizi. La società venne istituita nel 2008 e ha successivamente ampliato le competenze, occupandosi dei servizi di pulizia, cimitero, affissioni, manutenzione strade, sociale e anche della gestione dell'autovelox e dei relativi verbali. Sulla inchiesta vige da sempre il massimo riservo, ma secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del primo cittadino Coppola, la nuova visita della mobile sarebbe da ricollegarsi proprio a tali indagini. In questi mesi al municipio di Agropoli si sono presentati anche gli uomini della direzione distrettuale antimafia che hanno effettuato delle perquisizioni investigative anche presso l'abitazione del sindaco Adamo Coppola e lo studio legale del suo predecessore Franco Alfieri. Nella giornata odierna pare che la polizia a seguito degli accertamenti abbia prelevato alcuni documenti.